Assunto da pochi giorni come manovale, ha rubato materiale ed ile da un cantiere di Brugherio e per restituirlo ha chiesto al datore di lavoro 500 euro minacciando ritorsioni in caso di rifiuto. Il manetto è finito un 43enne originario di Bollate ad arrestarlo in fragranza di reato ai carabinieri della compagnia di Monza. L'uomo aveva risposto all'annuncia su subito.it pubblicato da una ditta di Milano che cercava un manovale e aveva da poco iniziato a lavorare in un cantiere ed ile. Dopo pochi giorni il furto, 5.000 euro di materiale, poi la richiesta estorsiva con la vittima che però, senza farsi intimorire, si è rivolta ai militari. I carabinieri hanno predisposto un servizio in Borghese di osservazione e pedinamento individuando il luogo scelto per l'appuntamento, un appartamento di Milano dove il datore di lavoro avrebbe dovuto consegnare il denaro e dove era nascosta la rifurtiva. Il blitz è scattato durante lo scambio e i carabinieri sono intervenuti bloccando il brianzolo e il suo complice, il proprietario dell'appartamento, un 46enne del luogo denunciato per ricettazione. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario mentre il 43enne ora si trova in carcere a disposizione della procura di Milano in attesa dell'udienza di convalida.